Allora cari tifosi viola, un saluto a tutti da Lorenzo Mancini. Torniamo finalmente alla vettura in campionato. La Frentina batte 3-0 la Salernitana. Goal e assist di Sottil. La prima rete di Beltran nonostante sia arrivata sul calcio di rigore. E gol un'altra volta del solito, solito Jack Bonaventura che tra poco diventerà anche il capocannoniere della squadra. Detto questo ragazzi mi raccomando like, commento, condivisione del video e analizziamo la partita. Lo faremo in breve. Oggi partiamo intanto subito dalla formazione schierata in campo. Formazione ottima. Finalmente rientra anche Cajode sulla fascia destra. Dà riposo a Parise. Più che altro dà anche molta più sicurezza. Nonostante un po' di stanchezza a fine partita. Ma si conferma naturalmente quella freccia esplosiva all'arco della Fiorentina. Per la difesa giustissimo così schierare poi Milenkovic, Ranieri e Biraghi. Ottima la coppia centrale di centrocampo che si conferma la solita sempre. Con un Arthur che secondo me oggi rientra forse anche tra i migliori in campo. Ma poi ne parleremo dopo. Interessante la scelta di non mettere Nico Gonzalez e di farlo riposare. Ma giusto così perché oggi è riuscito a emergere anche Riccardo Sottini. Poi ne parleremo anche di questo. E Beltrano là davanti. Ottima scelta perché farlo sbloccare era veramente fondamentale. Allora, primo tempo dove la Fiorentina fa praticamente tutto il lavoro che gli ha permesso di portare a casa questi tre punti. Che poi dopo vedremo anche cosa varranno nella classifica alla fine del video. E devo dire che comunque è una Fiorentina che nel primo tempo finalmente l'ho vista brillante. Subito aggressiva dai primi minuti. Subito una Fiorentina che aveva voglia di fare questa partita. In un franchi che comunque spingeva. Oggi una bellissima atmosfera allo stadio. Si percepiva anche da lontano. Però devo dire che come abbiamo iniziato i primi minuti con questo pressing alto con questo forzare l'avversario a lanciare la palla lunga o comunque a ingabbiarlo in una trappola ha aiutato parecchio la Fiorentina. Nel posizionamento medio della squadra si vede proprio come ci siamo schierati oggi con una sorta di 4-3-3 anche con un buonaventura un pochino più arretrato. Infatti oggi Jack ha dato molta mano al centrocampo anche e nel primo tempo si è vista soprattutto questa cosa perché con il suo arretramento si aprivano molti spazi al centrocampo con Duncan che si andava in serie ed infatti ha fatto una bellissima conclusione anche nel primo tempo. Dove poi aveva fatto i complimenti al portiere della Salernitana che oggi ha fatto una signora partita il migliore in campo di loro sicuramente. Però come dicevo l'analisi tecnica del primo tempo è che grazie al pressing grazie al posizionamento alto dei nostri calciatori in campo non abbiamo fatto praticamente respirare la Salernitana che fa della condizione atletica e delle ripartenze il loro forte. Quindi oggi abbiamo proprio tappato il problema alla base andandoli subito a pressare in difesa. Quindi molto molto bene da quel punto di vista poi bellissimi gesti tecnici nel primo tempo quello di Sottil forse il più bello della partita che si libera con una finta di corpo del proprio marcatore e poi la va proprio a imbucare sotto al 7 alle spalle di Costil che non poteva fare assolutamente nulla e Beltran contentissimo che abbia segnato il rigore è il primo rigore tra l'altro letto che calcia in carriera quindi complimenti anche a Beltran per essersi sbloccato finalmente anche in campionato era anche l'ora siamo al 3 di dicembre insomma alla buon'ora però va bene ci siamo ha fatto anche una discreta partita devo dire Beltran oggi poi comunque ho visto appunto una grande 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 partita di Arthur che con queste squadre naturalmente ci marcia ma fa bene perché oggi veramente ha fatto una partita eccellente quantità, qualità, passaggi, verticalizzazione c'è chi lo chiama l'ombre orizzontale beh non è neanche troppo vero ragazzi proprio perché bisogna anche vederle le partite perché oggi Arthur ha fatto anche molti passaggi in progressione e da questi tra l'altro sono nate tantissime azioni pericolose della Ferentina nel secondo tempo poi la squadra dopo anche il gol di Buonaventura ha naturalmente abbassato i ritmi in vista anche degli impegni che poi ci aspetteranno che saranno la Coppa Italia questo mercoledì scusate contro il Parma una partita che vi rivelo non sarà assolutamente facile e poi ci sarà la Roma poi ci sarà il Ferenc Baros in trasfetto insomma ci aspettano tante deadline importanti perché già mercoledì sapremo se continuare il percorso in Coppa Italia poi ci sarà una partita importantissima per la lotta europea contro la Roma all'Olimpico una partita che storicamente la Ferentina non vincerebbe mai vediamo e poi ci andiamo a giocare il primo posto del girone in Ungheria quindi sarà un bel tour de force questo della Ferentina verso Natale quindi era importante anche naturalmente mantenere le energie fresche quindi far riposare Nico Gonzales e quindi oggi hai fatto diciamo il massimo secondo me anche col minimo sforzo possibile tre gol, tre punti, porta in violata e adesso appunto arriviamo anche alla classifica la Ferentina adesso è quinta complice anche il pareggio del Lecce all'ultimo secondo contro il Bologna è vero è quinta lì con ancora la Roma e l'Atalanta che devono giocare però comunque la Ferentina è lì era importante oggi vincere per rimanere lì e per continuare a credere come ho scritto io nel titolo perché bisogna coltivare questo sogno ragazzi perché prima di andare a parlare appunto dei giocatori in campo vorrei far presente che la Serie A di quest'anno è una Serie A dove la Ferentina deve e può insinuarsi perché tra un'Atalanta altalenante una Roma e una Lazio che non soddisfano per niente un Napoli con Mazzarri un Milan di Pioli che sembra allo scatafascio ma a volte si riprende eccetera eccetera un Bologna sì l'unica squadra che ti devi tenere dietro naturalmente è il Bologna che dimostra di essere effettivamente una nostra contender quest'anno per i posti europei però quest'anno possiamo veramente dire la nostra va sfruttata questa occasione non capita tutti gli anni quindi vi prego vi prego sfruttiamo questa occasione continuiamo a crederci e esultiamo anche per queste piccole vittorie per queste partite importanti che non solo ci portano tre punti in classifica tre gol e zero gol subiti ma devono, possono costruire morale finalmente detto questo andiamo a fare un'analisi velocissima dei calciatori anzi vi dico i tre che mi sono piaciuti di più oggi beh sicuramente ci metto Arthur ci metto Sottile per il terzo stavo pensando perché non mi è dispiaciuto Duncan tra l'altro oggi che ha potuto giganteggiare in un centrocampo della Salernitana povero ecco parliamo anche un po' della Salernitana tutti questi bei discorsi quando davanti avevi l'ultima in classifica naturalmente però sono quelle partite che a volte la Fiorentina rischia di perdere quindi mai sottovalutare mai dare per scontato una vittoria soprattutto di questi tempi per noi quindi secondo me migliore in campo seguito poco dietro da Arthur che ha fatto una grandissima partita di quantità e di qualità e poi Duncan che comunque oggi ha potuto esprimersi alla grande contento appunto per il rientro in campo di Kaiode contento anche per come è entrato Quarta che si conferma secondo me uno dei nostri migliori difensori a oggi e niente ragazzi quindi io vi saluto qua ci vediamo poi per il post partita probabilmente contro il Parma sempre sempre forza viola ciao ragazzi grazie